Questo capitolo ottavo parlerà delle figure retoriche e si concluderà con delle letture sconclusionate, ma non troppo, perché sono letture che possono essere utilizzate come degli esercizi per una buona dizione. Dunque perché figure retoriche? Similitudine, metafora, metonimia, analogia, sineddoche, sinestesia, iperbole, ossimoro, chiasmo, parallelismo. Parliamo delle figure retoriche perché vogliamo cercare nei segreti della lingua gli strumenti per scrivere e parlare meglio, che è in tono col nostro podcast. Si fa spesso ricorso alla mitologia che viene spesso utilizzata per creare delle storie, racconti, romanzi, sceneggiature. Nella scrittura si fa uso anche dei flashback, molto uso, per raccontare l'antefatto, soprattutto nelle sceneggiature, nel cinema, dove si fanno salti temporali tra passato e presente e a volte anche il futuro. Ma noi parliamo solo di uno, una figura retorica che si chiama metonimia o metonimia, a secondo se la vogliamo pronunciare in greco che è metonimia, ma noi siamo latini e perciò metonimia, che vuol dire scambio di nome. È una figura retorica che consiste nello scambio di nome tra due entità, tra le quali vi è un rapporto di contiguità di sensi. Le parole, i nomi, non sono entità fisiche, ma vederle così può aiutarci a comprendere la figura retorica. Le cose che si scambiano di posto sono cose vicine tra loro ed è proprio questa contiguità dei sensi che origina la metonimia, il legame che inevitabilmente si crea tra la parola che togliamo e quella che mettiamo al suo posto. Chi legge Leopardi non sta seduto ore e ore a leggere la parola Leopardi ininterrottamente, ma legge le opere di Leopardi. In questo caso abbiamo l'autore per indicare l'opera, possiamo andare al bar a berci un bicchiere, senza sembrare matti. Il contenitore per indicare il contenuto. La metonimia o metonimia è molto usata, oltre che nel linguaggio di tutti i giorni, anche nel cinema. In una qualunque scena è possibile dire bevi un bicchiere, oppure stai leggendo Verga? Oppure hai visto quanto è bravo il primo violino? Si tratta di metonimia o scambio di nome per indicare il contenente per il contenuto nel caso del bicchiere. Nel caso di Verga si intendono le sue opere. Con il primo violino si fa riferimento a quel musicista seduto vicino al direttore che suona il violino, quindi non al violino stesso. Questo è un modo molto colloquiale, usato tutti i giorni. In ogni caso c'è la caratteristica della contiguità dei sensi. Un legame stretto che si crea tra quella parola che togliamo e quella che mettiamo al suo posto. Bicchiere, bevanda, Verga e le sue opere, violino e il musicista che lo suona. Nel cinema, e quindi nella scrittura cinematografica, questo legame viene utilizzato in modo particolare, proprio per creare suspense, attesa, curiosità, insomma per tenere sulle spine lo spettatore. C'è un esempio nel bel libro di Vincenzo Cerami, consigli a un giovane scrittore che ho perso, l'ho perso purtroppo in casa ma l'ho perso. C'è una scena apparentemente priva di significato inserita all'inizio della narrazione. Un bambino è nella camera dei genitori, apre il cassetto del comodino per curiosità e ci trova una pistola. Poi richiude il cassetto ed esce. La scena non c'entra nulla con la narrazione, che segue tutta un'altra linea, ma l'immagine di quella pistola si pianta nella testa di noi spettatori e non facciamo che pensarci durante tutta la visione del film. Aspettiamo che quella pistola venga utilizzata da qualcuno, forse per commettere un delitto o per uccidere. Chi? Come? Quando? Perché? E chi la userà? Ce ne stiamo lì, trepidanti, ad aspettare il momento e così seguiamo il film con maggiore interesse. È sicuro che quella pistola verrà usata. Il registra e lo sceneggiatore hanno inserito strumentalmente questa scena proprio per raggiungere pathos alla narrazione. Qui c'è una contiguità non tra due parole ma tra due azioni, il ritrovamento e l'uso della pistola che però avviene molto più tardi. Al posto delle parole ci sono immagini trattandosi di cinema, due scene che arriveranno alla stessa conclusione. E arriviamo al punto, il monologo. Nella costruzione di un monologo ci possono utilizzare flashback, miti, figure retoriche, anzi servono proprio a questo. Si studia, come nell'antichità, l'arte della retorica. Quindi nella capacità di inserire figure retoriche e aspetti mitologici nel nostro eloquio diventiamo più convincenti, ottenendo un gradimento maggiore nell'ascolto delle nostre parole. Ed ora passiamo a delle letture sconclusionate ma che contengono delle difficoltà di pronuncia per potersi esercitare. Poi vedremo più avanti se riusciamo a fare un podcast sulle figure retoriche, sui miti, su questo utilizzo per la scrittura e per la lettura ovviamente. Ciao! Esercizi con Gn. Era un sogno degno di una diagnosi. In una verde e amena campagna si teneva un convegno sulla vergogna. Una bella insegna di legno con un disegno di una donna che faceva il bagno insieme a un cigno. Era di giugno. Nell'aria un odore di sugna e di fogna con una cagna con la rogna che faceva la lagna. I partecipanti al convegno si facevano accompagnare dalle loro signore, segno che non riuscivano a svolgere l'impegno senza sentire il bisogno di compagnia. Ognuno scriveva il proprio cognome sulla lavagna e con contegno strappava un assegno con il quale pagava anche gli agnolotti e l'agnello arrosto. Ogni tanto facevano una grande cagnara ma in generale regnava molta armonia soprattutto quando bevevano il cognac e perdevano quell'aria arcigna. Spesso si mettevano d'impegno a danzare nella vigna al suono della zampogna. Sembravano personaggi di sogno, gnomi e matrigne nel regno dei ragni. Si erano dati anche dei nomignoli. E così c'era Ordigno perché troppo violento, Giallognolo perché pallido, Taccagno perché tirchio, Pigna perché non capiva, Spagna perché amava il flamenco e Vigogna perché vestiva sempre di lana. E' strano ma si chiamavano con i nomignoli e non provavano nessuna vergogna. Signore e signori, sono consapevole delle consegne che mi fate ma ho bisogno di un attimo di pausa. Non ricordava il cognome di nessuno e fece segno che come impegno era troppo gravoso e che la testa di legno che aveva organizzato il convegno era veramente uno gnocco. La diagnosi era perfetta e ricordò che in sogno aveva visto degli ignomi. Chiamò la più contegnosa delle signore, si fece dare un assegno e disegnò una casa di campagna, si fece accompagnare dalla sua compagna e, lagnandosi della montagna di cose e ancora da fare, prese una zampogna e si infognò in un concerto pieno di ignominia. Fu preso e messo alla gogna, morì dalla vergogna. Esercizi con la zeta sonora e zeta sorda. Nel Lazio ci sono molte aziende dove si coltiva lo zafferano e si allevano alcune razze di animali. Nello spazio antistante le case scorrazzano delle zebre. Costanti zaffate arrivano dalle stalle dove in silenzio dormono i cavalli. Una fontana zampilla al centro di un aiuole di zagare e azalee color zaffiro, curate con costanza e pazienza da uno zelante giardiniere un po' anziano e giallo come lo zolfo. Lo spazio è diviso in zone. Da una parte coltivazioni di zucchero e zibibbo, dall'altro zucca e semi di colza, tutto organizzato alla perfezione e con perizia. C'è anche un laghetto di media grandezza pieno di zanzare dove si pesca con la lenza. All'ora di pranzo si alza un leggero zefiro che porta uno lezzo di spezie. Le gazelle battono gli zoccoli sulle zolle con impazienza. Dopo la pulizia hanno fame, alzano il muso nella speranza che il fattore Ezio non sia fazioso e non porti il pranzo solo alle gaze. Sarebbe un'ingiustizia. Ma Ezio sta leggendo il gazzettino godendosi la brezza. Le gazelle su istigazione delle zebbre spezzano le cavezze, saltano la palizzata e iniziano a danzare su due zampe. Ezio non pronuncia nemmeno una parola, strabuzza gli occhi e stramazza nel mezzo della piazza. Lo zio Ezechiele era uno zuzurellone, amava viaggiare sprezzante del pericolo. Era stato in Amazzonia e con la zattera aveva attraversato mari dove la brezza gli aveva bruciato la zazzera. Era stato punto da molte zanzare che lo consideravano uno zimbello. Ma la ferita allo zigomo se la procurò con la zanna di un elefante che era appesa su una tavolozza di zampe di animali selvatici. Lo zio Ezechiele aveva comprato uno zaffiro bellissimo da regalare a Zahira. Era blu come quello dello zar che viveva in Nuova Zelanda vicino a una miniera di zolfo. Zahira portava sempre zoccoli ai piedi e ogni volta che entrava in casa inciampava nello zerbino e cominciava a zoppicare. Allo zio Zahira preparava sempre la zuppa per pranzo ma ci metteva lo zucchero e un pezzetto di zucca. Allo zio faceva ribrezzo per quel terribile orezzo che soffiava in cucina come zefiro. La gente faceva pettegolezzi su quella zingara così zozza ma Ezechiele amava Zahira e non voleva che restasse zitella. Così un giorno zitti zitti convolarono a giuste nozze. Con un vestito color zafferano erano una bellezza. Entrarono in un gran bazar dove mangiarono pane azimo e spararono razzi. Le zebbre per la puzza impazzirono e corsero all'impazzata nella piazza fino al pozzo ruzzolando sulle zolle. Gli esercizi con la S sonora e S sorda. Chiese alla sposa in quale chiesa si sarebbero sposati e pretese un impresario che con riservo trovasse in paese 36 e un cinese della buona borghesia per presiedere l'ennesimo matrimonio. Il marchese traslocò. Prese di peso il vanitoso marsigliese che rimase ad occhi chiusi e con il sorriso sulle labbra, lo chiuse in casa ed improvviso pretese una frase o una poesia con musica. Il marsigliese, preciso e invasato, infuse nella poesia così palesi cineseria che il marchese rimase persuaso che quasi quasi non era il caso che si facesse una cosa così in chiesa. Curioso chiese in quale paese avesse frequentato il ginnasio e il marsigliese con orgoglioso sorriso rispose a brindisi. Il presidente biasimò l'operato del primo ministro e pretese le scuse in inglese. Il poveretto che era francese trasecolò e chiese se poteva andare a casa per un mese al suo paese. Il presidente disse sì a quel desiderio e così rosso in viso prese il treno e andò a Pisa. Si chiuse in casa e quasi pensò al suicidio e poi, persuaso che avrebbe risolto il problema, si fece un infuso di girasoli, rosicchiò un po' di riso e rosso dalla collar e rimase a casa ad ascoltare la musica. Ad un tratto socchiuse gli occhi e improvvisamente decise di andare in Malesia a trovare un amico filosofo. L'idea era curiosa e risolutiva, allora finalmente sorrise. Esercizi con U.O. Suole andare dai suoi suoceri con il carro trainato dai buoi. Generalmente porta delle uova da cuocere perché le sue cognate sono delle buone cuoche, anche se adoperano solo il tuorlo. Sanno anche squaiare i conigli. Mentre i bambini sono a scuola a giocare, dopo il pranzo, aiuta a scuotere la trovaglia. Quando vuole aiuta il suocero a portare la cazzuola. Si ammalò di cuore quando era luogotenente nel duodecimo fuochisti e la fatica può nuocergli. Insomma, si comporta come una buonissima nuora. Un uomo e una donna si rifugiarono nel duomo spaventati da un tuono e dalla pioggia che aveva rovinato le suole delle scarpe. Ci sarebbe voluto un bel fuoco per asciugarsi e magari un bicchiere di liquore di quelli che fanno a nuoro. Una suora disse che in quel luogo non potevano stare e dovevano andare fuori. Uno suolo di uccelli faceva la ruota intorno a un banchetto di semi. Se non mangio qualcosa, muoio, disse la donna. Ho un languore e lo stomaco è troppo vuoto. L'uomo era possente e forte come una sequoia. Capì che si doveva muovere e, conscio del suo ruolo, disse alla donna. Vuole che la prenda in braccio o vuole andare a nuoto? Lei, sinuosa, gli balzò in braccio e sentì i loro cuori che battevano in un solo suono. La famiglia Gigliotti La famiglia Gigliotti è gelosa di quaglie che cucinano sempre con l'aglio con contorno di sogliole e dolce di millefoglie. Una volta Guglielmo, il capo famiglia, volle in un giorno di luglio, mangiare, invece delle quaglie con l'aglio, del coniglio e disse ad Azzeglio, suo figlio, vammi a cercare del coniglio che abbiamo finito le quaglie con l'aglio. Ma Azzeglio, il figlio, con fiero cipiglio, disse, no padre, non caccio il coniglio perché è difficile che lo piglio. Una volta l'ho rincorso vicino al ciglio del burrone. Col sole ho preso un abbaglio che per poco non mi stampiglio su quella roccia dove nasce il giglio vermiglio. Guglielmo, arrabbiato, sgridò Azzeglio, suo figlio, dicendogli, se tu non vuoi cacciare il coniglio, cosa mangerà la nostra famiglia? Abbiamo finito le quaglie con l'aglio, le sogliole, il miglio e il millefoglie con il ciglio. Allora Azzeglio, senza voglia, va nel bosco e sente un raglio. Si volta e vede un asino che mangia la paglia, lo uccide e lo porta alla famiglia. Allora Guglielmo guarda la moglie e dice, mio figlio è pazzo, gli ho chiesto un coniglio e mi porta un asino che una volta ragliava. Ma Azzeglio rispose, nessuna pazzia, famiglia mia. Ho solo pensato che senza aglio e coniglio, senza sogliole e millefoglie, se uccidevo solo un coniglio, domani e gli altri giorni dovevo tornare a cacciare. Siccome vostro figlio ha ucciso un animale più grosso, che mangia la paglia e raglia, potremo mangiarne fino al prossimo luglio. Le tredici commesse. Verbi mettere, porre, correre. Era stato bandito un pubblico concorso per un posto da commessa e le ammesse erano per l'esattezza tredici. La prova selettiva proposta prevedeva la padronanza di un discorso, una seconda prova per vedere quanto la candidata fosse composta e, infine, un'ultima per verificare quanto ella fosse credibile nel lanciare promesse. Di sconto, di acquisto, di bontà del prodotto. Il selezionatore del concorso cominciò il suo lavoro intravedendo, nelle concorrenti, ne era certo, personalità dimesse e malmesse, probabilmente provenienti da aree geograficamente dimesse. Invece, successe l'opposto. Le aspiranti commesse affrontarono la prima parte del concorso e ognuna improvvisò un discorso. Alcune parlarono della vita che scorre, altre analizzarono i corsi e i ricorsi della loro storia, altre lamentarono come sia triste vivere di rimessa e di come l'esistenza sia, purtroppo, a volte, un abito mai messo. Per la prova successiva fecero una proposta, smetterla con concetti di composto, scomposto, malposto, imposto, ma porre le basi per un mondo sereno e indipendente, l'unico in cui ognuno si potesse sentire al suo posto. Il selezionatore chiese qualcuno in soccorso. Aveva riposto in quel concorso per commessa una scarsa considerazione e quei discorsi e quelle proposte lo stavano disorientando. Si sentiva invecchiato, scaduto, trascorso. Sulla terza e ultima prova del concorso, le aspiranti commesse fecero una scommessa, ipotizzare una realtà in cui fosse deposta ogni ipocrisia promessa e in cui, al contrario, propositivamente, fossero esposti i limiti, lacune, inesattezze di ogni prodotto. Il selezionatore si sentì male e cominciò a rimettere. Accorse il medico che gli consigliò pillole e cerotti e poi siringhe, fiale, supposte, ma le aspiranti commesse, fedeli a quanto già promesso, chiesero al dottore di privilegiare solo un unico prodotto, per l'esattezza l'ultimo proposto. Tale rimedio, in effetti, funzionò. Il selezionatore capì l'errore commesso e annunciò la sua intenzione di dimettersi. Alle tredici commesse, invece, furono procurati altrettanti posti e i loro prodotti si rivelarono sempre più giusti, coerenti e corretti, senza alcun oneroso permesso né alcuna imposta da aggiungere e, soprattutto, senza nessuna rincorsa al guadagno. L'incendio doloso, lettera S, aspra o sonora. Si desumeva fosse doloso, disgustoso, sovrumano e sicuramente colposo. Aveva raso al suolo i boschi e le riserve, spingendosi fin quasi al ridosso del paese, in misura esasperata, minacciosa e pericolosa. L'autore, era palese, era Cesare il Torinese, preso d'amore per la sua Teresina e per il suo viso, la sua bocca, il suo naso. Tutto di lei. Aveva raso al suolo e, non casualmente, tutti gli alberi su cui insieme Cesare e Teresina avevano inciso e disegnato le loro reciproche, innamoratissime, frasi d'amore. «Ventisei», così diceva il risoconto, «susini, incendiati a cui il caso aveva imposto la sfortuna di sentirsi appoggiati, felici, i due ex innamorati». Si erano conosciuti in un caseificio. Lui le disse «buonasera» e lei prima gli rispose e poi sorrise. Lei dissertò dal peso esatto della bilancia e della siago stagionata, lui la vide già come sua sposa e Cesare era come risorto. Interi mesi, dolcissime attese, baci, pianti, rise e corse per prati rigogliosi e maggesi. Poi l'esito comune è più. Dopo i primi mesi, le prime fasi, lei disattese le sue aspettative e lui, rosso dalla gelosia, la accusò. Così finì. Adesso lui vive sopra un'isola, a volte riposa, altre più spesso confessa, nelle rosee sere d'estate, senza nessuna scusa, ogni cosa e ogni caso, senza posa. Il Monte Rotondo, suffisso ondo e i suoi derivati. Aveva un unico impegno e uno scopo preciso, trovare il Monte Rotondo. L'avrebbe cercato nel Congo, tra i bisonti e camaleonti, uccelli sonda e pesci rombi. L'avrebbe conquistato utilizzando zatteri di fronde e gondole di tronchi, superando ponti e tombe, onde zombie, tutto pur di compiere il suo trionfo, la scoperta del Monte Rotondo. Quando partì era bello e biondo, con una fronte spaziosa e sgombra, con uno sguardo altero e tronfio. Già dopo tre mesi, però, lo raccontano coi piedi gonfi e molli, con gli occhi concavi e l'espressione tonta, come quella di un tonno quando ha sonno o quando ronfa. Era, insomma, l'ombra di se stesso. Sgomento ma non sconfitto, provò l'estrema soluzione. Per questa mia avventura non pongo alcun limite, sono pronto a tutto. Convoco i migliori uomini del Congo, compro i loro attrezzi ed armi, vanghe, trombe, bonghi, fionde, bombe e vado alla ricerca del monte. D'altronde, se non riesco, mi farò un monco. Convocò in effetti gli uomini e dopo averli edotti in un incontro, e dopo aver dato loro un congruo acconto, diede vita a una corsa collettiva intensa. Corsero e corsero, di giorno e a notte fonda, girarono tra fiordi e valli, persero il computo dei giri, e non si resero conto che stavano ormai e da un pezzo girando sempre attorno allo stesso monte. Che, complici le impronte dei piedi ai bordi del monte, stavano rendendo quest'ultimo sempre più ordinato, circolare e rotondo. Dopotanto, arrotondante percorso, stanco e spossato, come prevedesse l'imminente trionfo, l'eroico conquistatore si addormentò. Furono allora i rombi delle trombe dei bonghi nelle valli a ridestarlo, e lì, pulito, bellissimo, intonso, vide finalmente a sé di fronte il monte rotondo. Tutti applaudirono. Lui ridivenne bello e biondo. Sulla vetta riuscì a far sgorgare una purissima fonte d'acqua, e dall'ora in poi, in tutto il Congo, fu considerato console unico dell'irripetibile, ormai al maiuscolo, monte rotondo. Lettura Gliè Una moglie indossava un fermaglio e si soffiava con un ventaglio mentre scriveva su un foglio la storia di un pagliaccio. Il figlio, che molto le somiglia, portò un po' di scompiglio rompendo un gheriglio. La mamma allora gli disse, è meglio che trovi un appiglio, altrimenti prendo un maglio e ti taglio. Il figlio, pensando di essere migliore della mamma, chiamò il babbo che intanto era alle prese con un conguaglio e gli chiese di dirle se era quella l'accoglienza da riservare al buon figlio. Il babbo Gagliardo, approfittando della situazione, pensò a un meraviglioso mazzo di fiori, fece qualche miglio, attraversò il cespuglio e disse alla moglie, io mi spoglio. Esercizi con I.E Visto che siete peccatori, potete venire in chiesa assieme a me e chiedere se dietro una lieve penitenza sarete assolti. Purtroppo il sacerdote viene solo alle dieci. Ieri, durante la predica, non si spiegava bene e non si capiva niente, anche se andava fiero del discorso fatto. Io, quando mi parla, mi siedo in piena luce, vado dietro ai miei pensieri, pieni di bandiere che sventolano nel cielo. Non ci sono molti cavalieri tra i fedeli e spesso mi fa male la schiena perché devo stare in piedi e mi appoggio all'acqua santiere e mi chiedo se le preghiere pieghino solo la mia mente. Vicino all'aniene camminano a piedi un alfiere, un aviere, un arciere, un allievo. Tutti e quattro fischiettano lieti di avere bevuto un bicchiere pieno di vino e mangiato una fetta di pane con il miele e anche della pastiera da un panettiere dalla faccia di alieno. Ad un tratto avviene che sentono un lieve rumore. Proviene da dietro quella siepe, dice la viere con aria bieca. Tutti e quattro si dirigono verso l'obiettivo e scorgono un ariete. Tienilo per le corna, dice l'allievo, ma l'ariete si siede e comincia a dire l'oroscopo. Ai quattro viene da ridere e pensano che un ariete che parla è una miniera d'oro e cominciano a recitare preghiere per riuscire a iniettare un sonnifero all'animale, dato che uno di loro è anche un infermiere. Ma non c'è niente da fare. L'ariete sfugge dietro una fioriera e l'infermiere interviene maldestramente e infierisce con l'iniezione sull'arciere che riesce a dirgli che è un